Sono Giulia Lorusso, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Da molti anni mi occupo della chirurgia anche della chirurgia di affermazione di genere e in particolare della mammella. Faccio soprattutto chirurgia della mammella e quindi di chirurgia mammaria nelle persone trans. Da 4 anni sono libero professionista, sono stata universitaria, ospedaliera fino a 50 anni e poi ho cambiato rotta. Lavoro anche nel convenzionato, quindi opero, in particolare faccio la mastettomia nelle persone trans col sistema sanitario nazionale in una clinica convenzionale. Importantissimo, l'approccio multidisciplinare è la base di qualsiasi attività, soprattutto per noi chirurghi plastici che siamo estremamente abituati a collaborare, quindi la chirurgia mammaria la facciamo anche lì in un gruppo multidisciplinare, la chirurgia oncologica cutanea, eccetera. Per quanto riguarda le persone trans che non sono persone che rientrano nella patologia, però che hanno bisogno di una medicina, di una chirurgia che quindi facciamo in stretta collaborazione. Queste persone iniziano fin da prima possibile a avere un ascolto, a essere riconosciute e quindi praticamente vanno dallo psicologo, non è necessario un medico, va bene? Quindi lo psicologo però è esperto nel riconoscere questa realtà che è identitaria essenzialmente. Dopodiché quando lo psicologo ritiene necessario c'è l'incontro con l'endocrinologo e l'endocrinologo si occuperà dell'eventuale terapia con bloccanti oppure se l'età è già più avanzata con ormoni analoghi al genere desiderato. Infine, una volta ottenuto il consenso del psicologo, dell'endocrinologo al passaggio alla chirurgia, la persona trans deve al momento in Italia avere una sentenza e quindi tutto questo viene portato dal giudice che decide se permettere o no il percorso poi chirurgico che ovviamente è pressoché irreversibile. Nel caso della donna trans ci saranno interventi che richiedono il chirurgo plastico per quanto riguarda la mastoplastica anditiva e la femminizzazione del volto, il maxillo facciale per alcuni interventi di femminizzazione del volto, l'otorino per la voce, anche il fognatra e anche il logopedista per la voce, l'urologo essenzialmente e il chirurgo plastico in associazione o in un'unica figura se si specializza in questo per fare la parte ginecologica e la neovulva. Quindi già le figure sono tantissime, ci sono gli psicologi, gli endocrinologi, i chirurghi plastici, i chirurghi maxillo facciale, il foniatra, l'otorino, il maxillo facciale, tantissime figure che devono collaborare, che sono riunite anche in una società in Italia fondata da pochi anni che si occupa proprio di mettere insieme a livello scientifico tutte queste figure e si chiama CIGIS. Allora sono una decina di anni che io mi occupo di questo anche a livello formativo, nel senso che grazie alla mia posizione universitaria ho fatto per anni lezioni all'università e dove vedevo che il riscontro nei giovani medici era altissimo, cioè una richiesta proprio di tesi molto numerose e sempre su quell'argomento, come se non aspettassero altro. Tuttora sono piuttosto interessati e hanno proprio una grande richiesta di formazione gli studenti di medicina. Le università sono un po' più indietro degli studenti e della popolazione, pertanto al momento c'è una scarsa offerta in questi termini. La comunicazione a livello universitario dovrebbe crescere sicuramente. Per quanto riguarda i social hanno rivoluzionato tutto questo, anche personalmente penso di aver fatto tanta comunicazione su questo argomento, la faccio continuamente perché nella mia pratica clinica mi capita di proprio avere il desiderio di raccontare certe storie o di far vedere la mamma dei due ragazzi, come nel mio ultimo posto su Instagram. Non sono un influencer, però ho visto che in questi anni ho aiutato un bel numero di persone proprio a livello di famiglia nel riconoscere questa dimensione e sono sicura che soprattutto nell'ambito delle persone trans, degli uomini, dei ragazzi trans c'è stata veramente una riconoscibilità molto ritardata proprio degli ultimi anni perché fino adesso il transessuale era una donna trans, che peraltro è molto grave definirla un transessuale perché è una donna trans, è una persona trans e quindi la comunicazione come ci si deve esprimere sono tutte cose che devono essere, devono diventare nella pratica comune soprattutto dei medici ma di chiunque qualcosa di veramente molto ben conosciuto. è un gran lavoro da fare ancora. È una chirurgia interessantissima, devo dire la verità, dal chirurgo plastico la trovo interessantissima perché te devi fare proprio il massimo di quello che è la chirurgia plastica ricostruttiva cioè ricreare un torace maschile da un torace femminile per esempio. quindi io prendo un torace nato femminile che però con la terapia ormonale si è mascolinizzato quindi ha i peli sul petto per dire per cui è proprio necessario fare una mascolinizzazione del torace e senza nemmeno aspettare i tempi troppo lunghi che le liste d'attesa purtroppo e anche la sentenza evocano e devo asportare le mammelle facendo un taglio magari spesso perché sono medio grande o comunque dosiche quindi non posso usare per esempio un taglio per arrolare e devo fare un taglio che si nasconda nell'ombra del petto orale. Questa è stata un po' una creazione in questi ultimi anni. Poi devo ricreare un areola e un capezzolo da un areola e un capezzolo femminili quindi normalmente abbastanza largo e abbastanza grosso il capezzolo io devo fare un capezzolo che è di 0,5 di mezzo centimetro quindi anche lì mi sono inventata questo frammento di areola e frammento di capezzolo che ricreano effettivamente un piccolissimo areola e qualche ragazzo mi ha detto i miei amici cisgender me lo invidiano per dire un massimo orgoglio è ovvio che questo innesto di capezzolo tutto ha fuori che la sensibilità nel senso che non sarà mai sensibile come un areola capezzolo è ricreato, è immaginato, è inventato, è ricostruito. Poi se per molta attenzione a dettagli viene ricostruito così simile che addirittura ci si può immaginare una sensibilità è solo quasi una convinzione del paziente di avere la sensibilità è per questo che in quel caso ti è cascato l'occhio su questo argomento e la sensibilità cutanea che investe anche quest'innesto che ha creato un nuovo areola capezzolo e questo è solo un dettaglio immaginati tutto il resto della chirurgia ricostruttiva identitaria nel senso per dare e rafforzare un'identità a una persona che è nata in un corpo sbagliato e ha capito che deve adeguare il corpo alla mente e non più come prima cercare di adeguare la mente al corpo perché è quello che poi è stato importante in questi anni cioè far capire a tutti persone comprese che potevano liberarsi e andare incontro a questa strada è un grande onore e devo dire la verità c'è un momento della loro vita molto molto bello da vivere e è anche nemmeno troppo doloroso quindi insomma è molto rapido perché è un intervento di superficie quindi dopo una settimana quando leviamo le fasce loro si guardano e oltre ad essere molto felici sono guariti stanno bene e quindi possono godersi a pieno questo momento per esempio la falloplastica che sarà sicuramente poi alla fine di un lungo percorso un grande successo per un ragazzo trans è pieno di momenti difficili di sofferenze di rischi di complicanze insomma molto più complicato io ho la fortuna di avere un bel momento da condividere con loro pertanto ho un rapporto bello, facile, divertente amorevole poi mi sono molto simpatici sono sempre più giovani oltretutto e persone che hanno vissuto una vita difficile una ricerca di identità che richiede comunque uno sviluppo della mente e cognitivo molto più rapido quindi sono giovani molto intelligenti sono giovani molto profondi sono una bellissima generazione Z di quella facilità sempre meglio prima mi arrivavano quarantenni soli la media era quella ma prima vuol dire una decina di anni fa non cent'anni fa adesso mi arrivano 17-18 anni con i genitori con i genitori amorosi che li hanno compresi aiutati e quindi insomma tutta un'altra storia con la sorella il fratello tutta un'altra storia poi è chiaro ci sono le eccezioni ci sono le persone comunque non comprese ci sono le persone che sono comprese da un genitore e non da un altro ci sono quelli che arrivano con la nonna che invece li ha compresi al posto dei genitori insomma è chiaro c'è tutto c'è chi viene solo ma sempre meno